Qual è difficile ma sembra fattibile Sì ma tanto ci sono le fence e quindi pietra Quindi non puoi passare di là Le fence non sono Eh no è un blocco e mezzo E poi ha il soffitto comunque Ah di là guarda c'è un altro di questi affari Ah ah è come sali Vai Non lo so Non c'è spazio Ok io sono su Due carote e una mela Corri in qui Ok Due mele e una carota Tutto qui per il cibo Va bene Mangiamo già che ci siamo Ok il pesce non da assoluto Grazie per il tuo altro uino Certo Perché tu non l'hai fatto Guarda qua ci sono le scale per salire Non va a cagare E mo Andiamo di qua Oh è un labirinto puro sto strato Oh una cesta Ossa Quindi ci sono dei cani Non la puoi rompere Stupido adventure mode Stupido adventure mode Qua c'era una porta Io voglio entrare in questa porta qua Guarda ma come si fa Non ci siamo ancora stati Ah ah E' pieno di leve Potremmo cliccare No 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 Fermo Fermo C Ok Non puoi uscire da qua Ah ah Se non accetti quello che c'è scritto Ma guarda ancora leve Non c'è Saliamo qua sopra Ancora E quindi Nota 2 Io non l'ho ancora letta Nota 2 Ho dimenticato di dirti il mio nome Probabilmente Non ci incontreremo Non incontreremo nessun altro Ma io sono Ecche Lei si chiama Ecche Vengo Dalle isole del nord Una piccola città Giusto Normale Attento alle trappole C'è tutto sto casino Per dirmi attento alle trappole Le regole Non ho le regole E quindi Molla Alla tua maniera Via Non era questa la tua maniera Ma va bene lo stesso Se hai distrutto qualche circuito di redstone Direi che la strada è di qua Direi che quelli sono circuiti di redstone Vabbè Probabilmente si aprirà la porta da qualche parte Troviamo la porta Direi che questi erano circuiti di redstone Guarda dove Cosa sono collegati Già che ci sei Aspetta aspetta Qua Ok No dove vanno Dimmi che non sono common block Perché sennò siamo fregati Uh qua c'è un passaggio Ok Sì Questo particolare Sono io all'inizio Hai tipi da me Ok raga Ah mi è arrivata tutta la roba La data è alta Meno male Oh cavolo Quindi Qua c'è il circuito di redstone Porta qua sopra Possibile che non riusciamo A non sfasciare le mappe Ah forse c'è una porta appena oltre queste 1000 TNT Ho capito Ah guarda c'erano anche degli spawner Dei ragni Io odio i ragni Via Diciamo che ne hai Ecco qua Qua c'è un corridoio Ecco picchi Quindi qua non possiamo Allora da qua ci arriviamo Ok Giusto Forse dovremmo aprire questa porta Sì Una volta aperta questa porta Da dove dovevamo andare Qua sotto? No Qua sotto no È solo redstone Questo cubo qua Uffa Questa mappa Fa cagare Oh cos'è qua? Beh Qua c'era la porta Te la ricordi? Dove sei? Ecco qua Marco Ho trovato la leva Per aprire la porta Quale porta? Ah quella sopra Sopra il dispenser O no? Non so neanche dove sei No no qua Checkpoint L'ho trovato alla fine Tippi Checkpoint Ok Dai ora torniamo a giocare C'è checkpoint Questo non è seriamente Ed è il checkpoint Cioè lo sanno tutti Mai lasciare un checkpoint Giusto Io correrei E qui? E poi almeno vediamo cosa c'è oltre Guarda Non c'è una porta Nulla sta mappa Con i silverfish Ottimo Ma guarda E' ovvio Anche perché con tutti Non so Non so dove rientrare Aspetta Mi scavo Tanti silverfish C'è il checkpoint C'è il punto cieco qua E dopo Qua c'è una cesta Cibo Sei in creative Comunque Che cavolo è successo? Questa TNT Non era neanche la mia Ma più che altro Sento blades Silverfish C'è mezzo mondo Qua dietro Non so dove sarebbe Ci sono un po' di blades qua Ora E comunque Ora ci penso io Almeno tu stai anche in creative Eh lo so In survival sono un po' difficile Ammazzarli Oh Non è in tag E' sta E' stata dura Ma le ho ammazzati Comunque sia Qua c'è del ghiaccio Vediamo cosa c'è appena oltre Il ghiaccio Dell'acqua Ho trovato Sì ma sei in creative Non è vero Sono di scienze Oh Dove si va qua? Bene Anche un lupo arrabbiato Giusto Quindi? Eh ma allora Eh ma guarda che Boh Io sono qua Dal checkpoint E tu dove sei? Eh ma allora sono stupido Io Basta E in acqua Non possono esplodere Dove che cavolo sei andato? Uh huh Come esci da qua? Sì si va dalla parte opposta Comunque eh No non so ancora dove sto andando Questa cosa è uno schifo Ci sarà un motuorino No 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 Oh sono uscito Ma guarda dove arrivo Oh favore Non scavare Per dritto Finché non troviamo un punto Allora ecco Visto Dove dobbiamo andare noi? Se seguiamo leggermente le regole Ma non tanto È tipo non usare cheat Rimanete insieme Tutte queste cose E devi attivare solo quello La giù in fondo Perché non la coppia No non ci preoccupare Che qua funziona tutto Alla perfezione Ora eliminiamo un po' di rumenta Eh no Sono di nuovo qua E quindi Dopo che siamo fuori Dalla mappa Aha Qui che c'è luce C'è qualche circuito Va bene Come sbagacciare una mappa Capitolo 1 poi Eh Questa mappa Quindi ci saranno anche i seguiti E i seguiti alla lol club Vanno a finire male Ah ecco L'ho trovato il punto Guarda E senza far esplodere Ma ce l'ho arrivato anch'io Ma come esci? Quei buchi lì L'ho fatto io prima in creative No Ci sono i circuiti Non c'è niente Dietro eh Forse è il suo punto Dover prendere aria Eh ma io non rischierei Basta che ci fai un buco E poi c'è la Come si chiama? C'è l'ossidiana Quindi Eh sì ma magari Lo faccio il buco Nel punto sbagliato Invece così Così anche la redstone Se c'era un pezzo di redstone Siamo sicuri che non c'è più Visto? Però sappiamo che non è Meno uno Prossima uscita Qui E qui dove si va? Qua c'è una boccata d'aria Sai che mi sa che ho trovato Ho trovato la strada Sono fuori Esatto Continuiamo seriamente adesso Oh che carino qua Il nulla Certo Questa struttura Non dovresti vederla da fuori Non dovresti vederla da fuori Ah, adventure Mettiti game mode 2 Ah, qua c'è il tuo ghiaccio E c'è un pezzo in parkour, giusto? Questa l'hai fatta Ah, dovevamo semplicemente andare di qua Sì Perché la porta era chiusa Sì Giusto L'enigma parkour Prima o poi la farò una mappa parkour Secondo me dobbiamo buttarci giù nel buco C'è l'isola, guarda, l'isola è tanto fatta bene Poi c'è questa mostruosità ignobile Ci buttiamo giù L'idea è giusta Perché lì tanto ci arrivavamo Usciamo dalla porta No, non è obrobriosa È un cumulo gigante di sabbia Oh, un asino Dove sei tu? A volare, vero? Vuoi vedere questo qua? Visto il nostro primo video Su come si fanno le palme in Minecraft Ok Sono arrivato Game mod 2 Sopravvivente Secondo me, vedi che ha visto il nostro primo video Quello come si fanno le palme Un nostro palme Sì, probabile Mettete mi piace solo Anzi, vediamo chi di voi riesce a trovare quel video Sembra una cappella gigante Parecchio gigante Vabbè Qualunque cosa sia È una struttura di merda Con una cesta E con tanta roba Perfetto Oh, c'è un villico Ma perché? No Sei infame Sei parecchio infame No Fermo Che magari ci può essere utile The Lost Potato The Lost Potato Checky Point Ciao Ma perché devi distruggere Dai Che distrugge un mucchio di circuiti di Redstone Guarda C'erano due command block Compliment Del manico Che ar faccio In Ch cache Ficero Rip Spre Con Indespite hayır Ac钏 Che 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 Che